Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, non pubblico ormai da quasi un mese, sono 28 giorni e l'ultimo video è stata la recensione alla seconda stagione di Loki Oggi torniamo a parlare di un'altra serie, un po' diversa da Loki e comunque dalle altre serie, infatti è un reality La prima volta forse su questo canale in cui parlo di un reality perché su Netflix da qualche settimana ormai si trovano gli episodi di Squid Game La Sfida Ovvero il reality appunto ispirato alla serie uscita ormai nel 2021 e che avrà una seconda stagione forse il prossimo anno Non è stata detta ancora una data ufficiale Fatto sta che io ero curioso per questo reality per scoprire intanto se le persone morissero, no naturalmente no Però volevo sapere come avrebbero adattato i diversi giochi della serie Sotto questo punto di vista potrei anche definirmi abbastanza soddisfatto a parte magari il finale, l'ultimo episodio e l'aggiunta e la rimozione di alcuni giochi Ma direi di partire subito con il mio pensiero riguardo questi dieci episodi Magari come sempre vi invito a seguirmi anche su tutti gli altri social, tanto i link sono nella descrizione tra Instagram, TikTok, X, Letterboxd Dove pubblico mini recensioni dopo la visione di un film al cinema o di un film comunque su una piattaforma streaming Letterboxd è uno dei social migliori al mondo, andate a iscrivervi se non lo conoscete In descrizione c'è anche il link di Pampling, come sempre il codice ILPENSIERO4 vi darà la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e averle totalmente in modo gratuito Sarà un regalo del sito e del mio codice Visto che è da un po' che non pubblico un video su YouTube, una pausa davvero lunga in confronto alle altre che ho fatto Vediamo se mi ricordo come si fa Oh, naturalmente uno dei motivi della pausa riguarda il fatto che la fotocamera è andata a donne di facili costumi e ho comprato questa nuova che state vedendo in questo momento Come primissima cosa vorrei fare davvero un plauso a questo reality perché ha una regia molto seriale, molto simile a quella che c'è nella serie madre in Squid Game, quella originale Questo tipo di regia ci dà anche la possibilità di entrare in contatto proprio con i personaggi come se fossero personaggi di una serie tv vera e propria E infatti io con i primi 5 episodi che ho visto in anteprima qualche giorno prima dell'uscita effettiva Poi sono usciti gli altri 4 e infine qualche giorno fa l'episodio finale Con la prima visione mi ero appassionato alla storia o comunque a uno dei partecipanti E sto parlando di Rick Non dico che fine fa il personaggio, personaggio, partecipante, non so come chiamarlo perché a tutti gli effetti sembra un personaggio di una serie ma non lo è poi così tanto Quindi per quanto mi riguarda la cosa interessante è proprio questa La direzione degli episodi ci dà la possibilità di entrare nel vivo come se fossimo in una reale serie E infatti mi è capitato più volte di dover gridare, insultare personaggi E continuerò a chiamarli personaggi Faccio questa premessa Continuerò a chiamarli personaggi per tutto il video nonostante non siano poi così tanto dei personaggi realmente personaggi Lo dirò un'altra volta, personaggi Era già stato detto mesi fa, prima dell'uscita della serie, anche forse nel periodo d'annuncio della serie Che alcuni giochi sarebbero stati eliminati per probabilmente pericolosità eccessiva anche per la realtà Ne è stato aggiunto in realtà uno, solamente uno di gioco effettivo Poi ci sono alcune bastardate tra un gioco e l'altro per creare scompiglio diciamo tra i partecipanti, tra i personaggi E infatti ho odiato quei momenti, non nel senso negativo del termine proprio perché sono successe le cose più tristi Per quanto riguarda alcuni dei personaggi a cui mi ero affezionato Però del resto questo è l'equivalente dello spegnere le luci nel dormitorio e dare la possibilità a tutti di uccidersi fra di loro nella serie originale Di certo non avrebbero potuto lasciare questa cosa Non penso sia spoiler dirlo ma il gioco eliminato è quello del tiro alla fune Probabilmente perché era troppo pericoloso È stato aggiunto al suo posto Battaglia Navale E posso dire che è tra tutti il gioco che ho preferito di meno perché Sì, ok, fino a un certo punto c'è la tensione delle luci che si spengono, è affondato Però no, mi ha dato un po' le vibes da cosa totalmente a parte, molto anche più Probabilmente kitsch potrei dire, non saprei Poi è stato fatto un cambiamento anche sul finale con lo Squid Game a tutti gli effetti E questa scelta non l'ho apprezzata perché Se una serie si chiama Squid Game e sappiamo tutti come va a finire la serie originale C'è il gioco del calamaro Perché va a finire in questo modo? Perché non c'è il gioco del calamaro ma c'è carta, forbice o pietra? Però del resto credo che questi siano gli unici problemi del reality Perché alla fine mi sono divertito Mi sono appassionato, ripeto, a personaggi, storie Ho odiato altri personaggi, comunque la serie fa il suo lavoro Direi di passare velocemente alla parte spoiler perché credo che questo video sarà molto corto Probabilmente uno dei più corti delle recensioni del canale Perché avevo solo due cose da dire realmente su questo reality Mi è piaciuto ma probabilmente fare una recensione complessiva di tutta la prima stagione Perché arriverà una seconda stagione, una seconda edizione già confermata Non ha poi così tanto senso visto che viene eliminato tutto il pathos dello scoprire chi vincerà Già si sa E quindi appunto passiamo alla parte spoiler Se non avete visto l'ultimo episodio, gli ultimi episodi di Squid Game La Sfida Vi invito a lasciare il video perché gli spoiler inizieranno fra poco Ma prima vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti Tra i miei social e i link di Pampling Codice ilpensiero4 per avere un paio di calze gratis a scelta E niente, passiamo agli spoiler Come primissima cosa mi dispiace tantissimo per Rick Ripeto, era il mio personaggio preferito Avrei voluto vincesse lui perché mi ha fatto divertire tantissimo Con le sue espressioni strane Fin dall'inizio, fin dal gioco di 1-2-3 stella C'è un momento in cui madre e figlio si abbracciano E vedete lui sulla sinistra Con una faccia strana Ripresa con lo slow motion E lì sono scoppiato a ridere Ed è nato subito in quel momento il mio volere Rick milionario Non è così, anzi È uno di quelli a perdere tra i primi Nel quinto episodio Proprio l'ultimo episodio che ho visto in anteprima In quei giorni E nonostante tutto posso dire che il momento della semifinale Quindi quella cena al lume di candela Con i bottoni rosso, verde e grigio Tralasciando il personaggio di Mai Che sento acclamare da tutti Ma a me è stata antipatica Fin dall'inizio Dal momento in cui appunto Entra in scena come personaggio a tutti gli effetti Visto che i tre semifinalisti Non avevano avuto chissà che grande spazio fino a quel momento E questa cosa mi fa pensare che effettivamente sia Realmente reale Visto che la regia non aveva ancora puntato su questi personaggi Su questi partecipanti Per poi ritrovarseli appunto più caratterizzati verso la fine Con le diverse storie Ripeto, Mai Nonostante tutto mi è stata molto antipatica Per alcune scelte Alcuni problemi che ha avuto durante il percorso Nonostante sia stata l'unica ad aver notato Il barare di un altro concorrente Se non sbaglio si chiamava Ashley L'altra concorrente Quella che non ha saltato Nel momento in cui doveva saltare sul ponte dei vetri Petri Plexiglass Mentre Phil e Sam Se non sbaglio Sam Si chiamava il ragazzo con la barba enorme E coloro mi ha fatto comunque piacere vederli tre finalisti Non hanno vinto Sfortunatamente ha vinto Mai Era prevedibile Posso dire che me lo aspettavo nonostante non la sopportassi Ma vabbè Alla fine è lei diventata milionaria Lei ha vinto i 4.560.000 dollari Io comunque anche se avesse vinto Phil o Sam Non avrei preso neanche un centesimo di quel denaro Quindi alla fine mi cambia poco Sì magari mi dispiace un po' per Phil Perché tra i due preferivo lui Tra Mai e Phil Durante la partita di Squid Game Carta forbice o pie tra lo stesso Questa cosa non l'ho buttata giù facilmente Si chiama Squid Game Non c'è lo Squid Game Vabbè E niente Io sono Andri Questo è stato un altro mio pensiero per voi Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine Noi ci vediamo in un prossimo video Sempre su questo canale Andri passa e chiude Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.